Buone notizie in arrivo per i cittadini in merito alle stazioni a Ciglia Sud Dragone e Tordivalle. Dopo anni di promesse pubbliche e rassicurazioni private, siamo forse arrivati ad un punto di svolta, si legge in una nota congiunta del coordinamento Comitati Entroterra Decimo Municipio e del Comitato Pendolari Roma Ostia. Ci sarebbe una trattativa in corso tra l'impresa costruttrice, la Regione ed Atac per riuscire a chiudere la partita e riaprire i cantieri. I lavori appaltati nel 2013, partiti nel 2014 e bloccati varie volte a causa dell'irregolarità del flusso dei pagamenti, si sono fermati definitivamente nell'agosto del 2017. L'intesa, che avrebbe lo scopo di trovare una quadra economica che accontenti tutti e limiti i danni prodotti, prevede di attuare il subentro di Astrala da Atac come stazione appaltante e il risanamento del debito pregresso dovuto all'impresa costruttrice e la garanzia sui pagamenti futuri. Dagli enti interessati al momento non trapelano indiscrezioni, termina il comunicato.